Incendio colposo e violazione della legge sui rifiuti. Sono queste le ipotesi di reato per le quali il Pubblico Ministero Luigi Boccia, titolare dell'inchiesta sul rogo divampato nella discarica del Cassero, nel comune di Serravalle Pistoiese, il 4 luglio 2016, ha chiesto il processo per Alfio Fedi, all'epoca presidente del CDA di Pistoia Ambiente, e Michele Menichetti, l'allora direttore tecnico della discarica, rispettivamente difesi dagli avvocati Andrea Nicolai e Fabio Celli. All'origine dello spaventoso incendio del 2016, infatti, ci sarebbe un'alta concentrazione di idrocarburi pesanti nei rifiuti conferiti, che, secondo la procura, per questo motivo non avrebbero dovuto essere smaltiti nella discarica. Analisi incomplete e una classificazione sbagliata avrebbero accompagnato i carichi erroneamente identificati come non pericolosi. Il giudice Luca Gaspari si pronuncerà il prossimo 15 dicembre, come annunciato nell'udienza che si è tenuta lunedì presente il sostituto procuratore Giuseppe Grieco. Il comune di Serravalle si è costituito parte civile per un eventuale risarcimento danni. Insieme all'ente ci sono, come parti civili, 13 residenti della zona della discarica e 4 associazioni ambientaliste.